Un commento e una domanda per la dottoressa Milano. Il commento primo è relativo alla prevenzione. Mi avete detto che per esempio in Inghilterra vengono rimborsate solamente quelle terapie che dimostrano essere efficaci. Negli Stati Uniti vengono rimborsate solo quelle terapie che non possono essere prevenute. La Medicare ha già attivato addirittura un passo in avanti. Le malattie prevenibili non vengono rimborsate dal sistema. E questa è una cosa abbastanza importante. La domanda per la dottoressa Milano. Che strumenti ci sono per verificare la veridicità delle informazioni che i giornali trasmettono al pubblico relativo evidentemente alla scienza? La cultura. Cioè nessuna? Sì, è un discorso che dovrebbe partire dalla scuola. Queste sono porte sfondate ormai. È sempre quello che si dice. Cioè si dovrebbe incominciare a far sì che già a scuola la cultura scientifica abbia un entri non dalla porta di servizio come ancora oggi è. Da noi si è sempre privilegiata la cultura umanistica rispetto a quella scientifica. E oggi come oggi è ancora così. Cioè se uno... La lezione di chimica al liceo Perini non viene mai fatta in un laboratorio. Dal vero. Ma è teorica. Quindi questo come può coinvolgere degli studenti? Come può farli innamorare della scienza? È abbastanza difficile. Io quello che posso dire è che si deve fare formazione sui giornalisti che fanno comunicazione scientifica. E questo è un tentativo che io ho portato avanti per dieci anni all'Università di Pavia con un corso intensivo per giornalisti scientifici che si chiamava Open Lab. Sono cose da portare avanti. All'estero sono molto diffuse. In Germania, in America, all'MIT che ho frequentato per una fellowship tantissimi anni fa. Sono cose normali che si fanno. Cioè formare i giornalisti. Far sì che abbiano loro per primi gli strumenti per scrivere in maniera corretta. E altra regola d'oro principe è che io insegno e ho sempre insegnato controllare sempre quello che si scrive con le fonti che si sono sentite. Lo facevo ai tempi del fax. Mi dicevano che ero pazza ma l'ho sempre fatto perché questo è quello che la scuola anglosassone insegna. Cioè verificare sempre le fonti. Perché se no si scrivono delle grandi inesattezze. e per il giornalista fra l'altro che verifica le fonti c'è il vantaggio che non si gioca alle fonti. Perché se non scrive cavolate, scusate la parola, però poi le fonti se le tiene sempre buone e questo è importante. Comunque sì, è questo il problema. Sul tema del... Sì, allora non lo faccio il commento. Passo perché c'è una domanda di Maria Luisa Nolli e poi una domanda di dietro. Grazie. Sì, sono Maria Luisa Nolli e ho due domande in realtà. Una per le persone che si occupano di robotica. Tra le righe è emersa una resistenza da parte del personale chirurgico a queste nuove tecnologie. Quanto pensate si possa facilmente, al di là della vera disposizione, le macchine bypassare. E la seconda è per la dottoressa Pivano Milano ed è su questo. Quanto è importante per uno che vuole intraprendere la carriera di giornalista scientifico avere un'esperienza scientifica? Aver fatto... essere stato prima ricercatore. Grazie. La resistenza al momento è sia culturale ma anche legata, come tutte le nuove tecnologie emergenti, a un problema anche di possibilità economiche per tutti gli ospedali di affrontare la spesa. È chiaro che affrontare questa spesa vuol dire però partire con un'organizzazione, da un punto di vista anche manageriale, che preveda un vero e proprio sviluppo di un programma robotico e se è fatto in questi termini con una multidisciplinarità e quindi con varie figure chirurgiche che ruotano intorno alla macchina e con lo sfruttamento di questa macchina a 12 ore al giorno come avviene al nostro istituto, verosimilmente i costi sono affrontabili. L'altra cosa è che anche lo sviluppo di competitori nell'ambito del stesso tema, quindi altri robot chirurgici sul mercato o comunque la diffusione della metodica ridurranno sicuramente i costi. Il problema culturale è un problema secondo me di tempo e lasciare appunto che l'ambiente scientifico si adegui alla nuova tecnologia e poi le informazioni gireranno anche a livello delle varie conferenze internazionali. Io penso che piano piano si diffonderà. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Giusto un aspetto a livello tecnico. per rendere questi robot anche più accettabili, oltre all'aspetto economico che è sicuramente forse il principale, riuscire a implementare delle funzioni che non sono possibili allo stato attuale. Per esempio i robot chirurghi attuali sono completamente deloperati e noi stiamo lavorando sull'automazione non dell'intera operazione, cosa che mi sembra veramente fantascienza, ma l'automazione di alcuni sottocompiti. Per esempio l'automazione del gesto chirurgico durante la sutura. Questa è una cosa che tecnologicamente si può fare, avere una specie di database di tutti i possibili nodi che si possono fare nelle varie situazioni e quindi automatizzare un task molto di basso livello in cui il chirurgo prepara tutto e poi la macchina esegue da sé questo task a bassa responsabilità. Questi sono aspetti di ricerca, di implementazione abbastanza vicina che potrebbero dare un valore aggiunto non indifferente perché penso che il tempo di sutura durante un'operazione sia alla fine proprio del tempo perso, diciamo così, che deve essere fatto. Io avevo una domanda. Quanto costa un robot? Poi intorno a un milione e mezzo di euro. Però aggiungo, però su questo penso che Giulia sia molto più preparata, i problemi sono anche quelli della manutenzione dello strumentario. Gli strumenti, ogni dieci operazioni devono essere cambiati e in realtà è su quello che il fatturato dell'azienda può andare avanti. Devo dire che a livello tecnico quegli strumenti dopo dieci operazioni vanno ancora bene, no, vanno ancora bene, però parlo da ingegnere, cioè noi lavoriamo su strumenti di questo tipo e funzionano, però chiaramente non rispondono a tutti i requisiti che devono avere per funzionare in vivo. Ricercatori che diventano giornalisti, scienziati. Gli allievi dell'assista sono quasi tutti laureati nelle più varie facoltà scientifiche. Ci sono laureati di fisica, in biologia, eccetera, quindi c'è una parte di... filosofia se non umanistica. La mia preparazione per esempio è umanistica, non è scientifica. È vero che volevo fare il medico e non mi è stato concesso di farlo, perché non lo so perché comunque è andata così e quindi poi il grande amore per la medicina è riemerso come scrittrice, come giornalista. Perciò non so, da noi ci sono scienziati, ci sono due o tre scienziati famosi che scrivono anche. In America questa cosa è molto più diffusa. Ci sono molti scrittori famosi che sono scienziati. Da noi conosciamo tutti, Dado Boncinelli, conosciamo tutti, che ne so, altri che possono essere, o di Freddy, oppure... Però è più raro, è molto più raro. Grazie. Sì, io volevo domandare, appunto a proposito di questi strumenti, se ho capito bene, c'è un solo grande produttore americano che veniva citato e com'è la situazione dal punto di vista dell'offerta magari in Europa, perché anche questo forse è un'evoluzione necessaria, no? Del robot? Stiamo parlando. Sì, allora, il produttore americano è la Intuitive e io sono a conoscenza di diverse altre company che stanno sviluppando vari prototipi di robot. alcuni sono più o meno in fase avanzata di sviluppo, certamente sono ancora molto lontane da arrivare a quello che ha ottenuto questa ditta. In Italia abbiamo avuto, diciamo, una situazione abbastanza particolare rispetto agli altri paesi europei perché c'è un'azienda che si occupa di trasferire e di vendere questi robot per la Intuitive in Italia che ha lavorato molto bene e che ha permesso di questa diffusione. negli altri paesi europei non c'è questa intermediazione però piano piano la Intuitive sta prendendo spazio anche in questi paesi e c'è anche un problema di brevetti perché fra poco i brevetti della Intuitive saranno scaduti e quindi è verosimile che i costi si abbatteranno. Grazie. Mary, ultima. Allora, io volevo approfittare della qualità di questa tavola rotonda per portarvi su una domanda su un progetto che ci sta molto al cuore che è quello appunto del Future Camp e dell'orientamento dei giovani sui mestieri del futuro. Chi ha figli, come la maggior parte di noi, sa quanto è difficile questo problema e quanto ancora l'ambito formativo tradizionale sia appunto tradizionale quindi incasellato nelle facoltà che sono più o meno note a tutti. Quindi come si può fare a indirizzare verso percorsi che vadano verso l'informazione scientifica piuttosto che la ricerca e la sperimentazione in maniera efficace, secondo voi? Eh, qui, Maria. Può rispondere? Sì. Questa è una domanda che mi sono posta un sacco di volte perché secondo me, soprattutto lavorando in laboratorio, io vedo tutti i giovani che arrivano e non hanno veramente chiaro in mente che cosa vogliono fare in futuro. Il lavoro della ricerca è un lavoro che è estremamente faticoso. Bisogna essere motivati e bisogna volerlo fare. Quando arrivano e ti rendi conto che non hanno l'idea di quello che devono fare, di cosa significa lavorare in ricerca, che perderanno un sacco di tempo, perché è quello che è di soldi, perché noi paghiamo per fare ricerca con i fondi di cui si parlava e quindi è fondamentale che i ragazzi che arrivano siano motivati. Secondo me l'unico modo, perché questo si verifichi, è che prima di scegliere l'università abbiano dei corsi di formazione che possano vedere che cosa significa fare un determinato lavoro. Secondo me quello è fondamentale. Molti scelgono di fare biologia e al 50% vengono persi durante i corsi perché amano la natura e quindi si iscrivono a biologia. Poi si rendono conto che i primi corsi sono fisica, matematica, che bisogna saperle queste cose e che non si sta in un mondo e un mondo che comunque è molto concreto anche quello della ricerca e che quindi bisogna cominciare con il piede giusto, già facendo la scelta giusta all'inizio. E secondo me l'unico modo affinché questo avvenga è che l'ultimo anno del liceo i ragazzi possano frequentare magari un laboratorio e vedere che cosa è la cosa che gli interessa piuttosto che altri tipi di lavori che abbiano un minimo di esperienza pratica. Magari in sala c'è Assunta Croce che è la direttrice del programma di IFOM e IEO proprio per la scuola, cioè per orientare i giovani, soprattutto del liceo e delle scuole superiori. Non so se Assunta vuoi dire qualcosa su questo, che è uno dei programmi. Mi ricollego a quello che diceva la dottoressa Rescigno sull'importanza di far vedere ai giovani e anche la dottoressa Milani sull'importanza di far vedere direttamente ai giovani che cosa significa fare ricerca. Ci sono molti sforzi, devo dire, in questa direzione. Noi per esempio come istituto abbiamo creato un programma divulgativo rivolto al mondo della scuola e lavoriamo costantemente con i docenti che hanno un ruolo cruciale anche nel trasmettere la passione per la scienza e per la ricerca e con gli studenti. E devo dire che comunque molto nel panorama italiano si sta muovendo nel senso che oltre alla nostra istituzione ce ne sono moltissime altre che proprio cercano di tessere questo legame tra istituzioni che fanno ricerca. Possono essere appunto fondazioni, possono essere anche la stessa Università degli Studi di Milano ha un programma attivissimo rivolto agli studenti delle scuole superiori. Quindi è come dire un punto cruciale su cui però si sta intervenendo. Chiaramente ci vuole tempo, c'è un investimento e ci vorrà tempo per raccogliere poi i frutti. No, se posso aggiungere solo un commento che voi parlate di una fase preuniversitaria. Io credo che anche dobbiamo farci un esame di coscienza anche perché durante l'università ci sia una mancanza di informazioni in questo ambito. Io sono medico, mi ricordo che uno dei primi anni della facoltà di medicina mi era stato detto che io avrei potuto scegliere fra la medicina e la chirurgia. Nessuno mi aveva detto che c'era anche la ricerca. Io ho scoperto la ricerca quando ero già in scuola di specializzazione, me ne sono innamorata, adesso praticamente faccio solo questo. Quindi io credo che tutti noi che abbiamo in un modo o nell'altro una responsabilità di corsi in ambito universitario credo che sia molto importante anche accanto alla parte più pratica di insegnamento della nostra disciplina far conoscere davvero agli studenti quale sia questo mondo meraviglioso della ricerca che è qualcosa che è importantissimo per tutti noi, è importantissimo per il futuro e per i nostri figli. Grazie. L'ultimissimo stimolo, appunto, anche io ho detto mentre stavate parlando, pensavo il fatto che proprio quello, cioè forse bisogna dare la prospettiva del mestiere del futuro per capire qual è il punto d'arrivo, lo sforzo nostro è stato anche quello di invitare qualche scuola. Purtroppo abbiamo difficoltà a toccare il mondo scolastico oltre quello universitario perché si è inquadrati un po' nei soliti percorsi. Quindi lo sforzo che stiamo cercando di fare come associazione, ma credo che la comunicazione e l'informazione in questo senso sia importantissima, proprio perché manca quello che magari un po' di tempo fa c'era, la capacità anche spesso del docente di coinvolgere, affascinare attraverso la tecnica, i laboratori che vengono pochissimo utilizzati dalle nostre scuole, i ragazzi verso quello che è un campo dove c'è bisogno, c'è domanda e paradossalmente bisogna fare tanto sforzo per individuare i talenti. No, e questo io per concludere direi che appunto in Italia ci sono sempre meni iscritti alle facoltà scientifiche, alle università, insomma il problema, noi abbiamo una tradizione scientifica importantissima, altrettanto importante della tradizione umanistica in Italia perché tutti spesso invece identificano la cultura in Italia con la cultura umanistica e questo è un problema in generale per tutti, credo uno dei ruoli di Donne e Tecnologie, in particolare di Future Camp, che è l'iniziativa rivolta ai giovani che noi facciamo, è proprio quello di fare capire che sulla cultura scientifica si può costruire una carriera e si può costruire una carriera che può variare anche nel tempo, perché molte di noi qua dentro, sicuramente io, abbiamo cominciato come scienziati e poi ci siamo mossi su altri territori che possono essere quelli manageriali, dei brevetti, della finanza e di altri tipi, quindi con questo voglio concludere anche perché siamo in super ritardo, ringrazio tantissimo le pannelliste che sono veramente di altissimo livello, speriamo di continuare in una prossima edizione nel dibattito e passo la parola a Maria Luisa Nolli che... Grazie, cambiamo il giro. Grazie intanto, scusate.